Hello everyone and welcome back to the channel. As the festive season is coming I decided to do a video review on party dresses which I found and tried at Zara's tour as Zara has a beautiful party dresses collection this year. So I tried six evening dresses that I show you now with the size price information and fabric composition the first dress is this multicolored sequined velvet dress with ballon long sleeves and a square neckline the dress is quite short I like this sequence they are appropriate for a big event like a New Year's Eve but I prefer a v-neck instead of a square neck so 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 Grazie a tutti. Il secondo vestito è uno dei miei tipi favoriti di vestito, il vestito di vestito. Il vestito di vestito di vestito ha una sequenza blu negli blu con un colline fluo e le spagetti che non sono adattabili. Il vestito di vestito finisce con un asimmetrico e un slitto di parte. I like so much the midnight blue color of this dress and the match with a pair of black shoes. Il vestito di vestito di vestito di vestito di vestito. Il vestito di vestito di vestito di vestito. Il terzo vestito è questo organza semi-sheer floral. Il terzo vestito è nero con le flore blu e ha un ruolo d'occhio lungo baleone e è fito alla costa. Il terzo è corto con un raffreddato, mi piace questo terzo, è un terzo molto buon terzo per il prezzo. Il terzo è un terzo. 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 è un terzo. Il terzo è un terzo. Il terzo è un terzo. è un terzo. terzo è un terzo. 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 terzo è un 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 terzo. è un terzo. 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 I'm wearing the XS sides, but I took these sides by mistake, as my sides is the S sides, so this dress in the XS sides is too tight for me. I'm wearing the XS sides, and I'm wearing the XS sides, and I'm wearing the XS sides. Grazie a tutti. Grazie a tutti per aver guardato questo video, lasciatevi sapere nei commenti qual è il tuo vestito preferito e ci vediamo nel prossimo video, ciao!